Move-In è un'innovazione di Regione Lombardia, un'alternativa per migliorare la qualità dell'aria, limitando i disagi alla mobilità. Come? L'idea è semplice ed efficace. Si può limitare l'inquinamento prodotto dai veicoli meno recenti, offrendo in alternativa ai blocchi della circolazione basati sul quando usi il veicolo, una limitazione diversa, fondata sul quanto lo usi. In pratica, aderendo a Move-In, il tuo veicolo benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 3, potrà circolare a qualsiasi ora, 7 giorni su 7, rispettando però il limite annuo di chilometri calcolato in base alla sua tipologia e classe ambientale. Basterà installare a bordo della tua auto l'apposita scatola nera presso uno degli operatori accreditati che potrai scegliere aderendo al servizio sul portale www.moving.regione.lombardia.it. La scatola nera conteggerà i chilometri che percorri nelle aree della Lombardia soggette a limitazioni del traffico. Attraverso l'app Move-In o sul portale dedicato potrai sempre controllare i chilometri che ti rimangono da percorrere e se hai uno stile di guida ecologico ti verranno concessi chilometri in più come bonus. Per maggiori informazioni visita il sito www.moving.regione.lombardia.it Move-In. Limitiamo l'inquinamento da traffico, non la tua libertà.